Il Crotone ha sofferto maggiormente a metà campo, non riuscendo a fare girare palla come si deve. Cosa è mancato? Innanzitutto abbiamo giocato contro una squadra che in mezzo al campo ha tantissima qualità. E' mancato coraggio, è mancata la cattiveria nell'affrontare anche nell'uno contro uno in mezzo al campo in fase difensiva gli avversari. L'esempio è il secondo gol dove Castrovilli fa sfilare una palla e poi accompagniamo in porta gli avversari, al di là della bravura di Ribery e Vlaovic. Potevamo sicuramente fare molto meglio, sicuramente timidi anche nelle ripartenze con poca convinzione e determinazione nel ripartire e essere più bravi negli ultimi 20 metri. Questo per il primo tempo. Poi dal secondo sicuramente una squadra diversa in campo con una reazione mentale importante, con personalità. Sicuramente abbiamo rischiato di più ma la reazione c'è stata. Come valuta questo girone d'andata? Si chiude la quota a 12 punti. Servirà un'impresa per centrare la salvezza? Servirà un'impresa sì, assolutamente sì. Sento dire da qualche tempo da qualche mio collega che per salvarsi potrebbero servire dei miracoli e qua probabilmente qualcosa in più. Credo di poter rispondere in due modi. La prima sicuramente è che potevamo fare di più e dall'altra c'è il rammarico che veramente per uscire da tanti campi dove potevamo fare posta piena c'è il rammarico di aver lasciato dei punti per strada. Perché credo che questa squadra meriti molto ma molto di più rispetto alla classifica che ha. Mister, tanto possesso palla ma pochi tiri in porta. È forse mancato un po' di coraggio? No, non è un discorso di possesso palla. È un discorso che comunque avevamo di fronte a una squadra che ci ha obbligati magari a palleggiare più bassi. Il problema è che quando arriviamo davanti non siamo stati bravi. Non è un discorso di palleggio. Noi vogliamo arrivare davanti, vogliamo andare a giocare in verticale. Nel primo tempo timidi, nel secondo tempo meglio. Sicuramente ci vuole qualcosa di più a livello individuale anche nel cercare il dream che ti rimporta. In qualcuno ce l'abbiamo e fa vedere la qualità. In qualcun altro magari paghiamo anche un po' di timidezza caratteriale. Mister Messias, uscita inzitempo, come sta? Eventualmente sarà un'assenza pesante contro il Genoa? Adesso mancano otto giorni, nove giorni, quindi vediamo, valuteremo in questi giorni che cosa avrà effettivamente. Di sicuro è uscito così e è abbastanza allarmante quello che si potrebbe verificare. Ok, grazie. Grazie.